tre sedi di rinnovi uno è Maianelli l'altro è Pecolo l'altro Ancola e Peluso che l'hanno rinnovati il contratto per un anno cioè fino al 2022 penso che praticamente questi tre ormai sono un punto d'arrivo credo se non è la loro ultima stagione poco cimane quindi secondo me è giusto che il rinnovo di un anno è anche giusto che soprattutto Maianelli credo si rinnova la fiducia anche se non giocano tanto questi tre quindi poi vedremo il calcio mercato che fare sa solo e quindi vedremo che quanti minuti giocheranno loro perché bisogna anche vedere un po' quei con tutte le indicazioni di mercato che che stanno uscendo fuori cosa assurda quindi non mi non mi stupireste questi tre giocatori il prossimo anno faranno tutte le partite quindi vedremo io ovviamente spero di no perché con tutta la stima che ho per questi tre giocatori però credo che ormai la loro epoca sia finita quindi dovremo comunque fare degli ottimi acquisti eccetera quindi vediamo ora ora vediamo perché comunque sono tutte e tre comunque uomo lo spogliatoio in maniera assurda mi viene da dire soprattutto Maianelli che sa come tenere uno spogliatoio visto che molte volte ho sentito dire che Maianelli è quello che è il punto fermo della squadra anche se non gioca quindi vediamo ora ora vediamo intanto sono contento che questi tre sono stati rinnovati per un anno anche se potrebbe essere per tutte e tre l'ultima stagione con il calcio giocato poi si vedrà quello che faranno loro visto che ormai tutte e tre hanno un po' quell'età da smettere o non smettere di fare il calciatore diciamo che maianelli comunque c'è già il futuro assicurato nella nella dirigenza gli altri due vedranno quindi se intanto intanto godiamoci questi tre per ultimo anno poi vedremo intanto forza Sassol forza Italia e ci vediamo al prossimo video ciao